C'è il primo scontro dialettico in casa PD tra il governatore Enrico Rossi e il segretario regionale Dario Parlini, che ha un evidente retrogusto congressuale alla luce della candidatura segretaria annunciata dallo stesso Rossi. Fino a lei dirigenti renziani del partito, locali e nazionali, avevano prestato poca attenzione all'annuncio della candidatura da parte di Rossi, limitandosi a diffusi commenti fotocopia all'insegna di «è troppo presto il congresso, c'è nel 2017». Ma sul tema dell'eventuale scissione tra segretario del partito e candidato premier, avanzato da Enrico Rossi, il segretario toscano Parlini ci mette subito un fermo. Non si può, dice assolutamente, mettere in discussione il principio per cui il segretario del partito è automaticamente il candidato alla presidenza del Consiglio e che se diventa presidente del Consiglio resta segretario del partito. Evidente l'intervento in tecchia e l'energico su Rossi, come dire, «se corri per il partito, corri anche per essere candidato premier, vedi te». E arriva subito la replica di Rossi, che mantiene la sua posizione. L'ascissione, quella tra segretario e premier, secondo lui, è più che legittima. «Mi permetto di avere un'opinione diversa da quella di Parlini», scrive nel suo blog su Huffington Post. Il ruolo di segretario politico può essere scisso da quello di premier, semplicemente modificando un articolo dello Statuto in Assemblea Nazionale, con una procedura che è già stata usata altre volte. Secondo Rossi, la possibilità di separare queste due funzioni e ottenere risultati proficui è dimostrata proprio dal rapporto corretto di reciproca stima e collaborazione che nel caso della Toscana tutti possono constatare. Insomma, Rossi dice a Parlini, «io sono governatore, tu segretario del partito e mica va poi male». Per esempio, il bilancio regionale è stato approvato, sottolinea il governatore, in linea con le strategie politiche del PD, evitando aumenti delle tasse e razionalizzando spese e servizi. Tutto questo accade all'indomani di Toscana di Acellò, dell'iniziativa del PD tenutasi a Empoli nel fine settimana, in cui Parlini, alla presenza di Rossi, ha annunciato la riorganizzazione del partito e anche una necessaria riflessione sulle regole delle primarie.